Anzi in ultima da Ariel della scoperta Adesso è giusta Adesso è giusto L'ignoranza è pericolosa È sconcertante Ho bisogno di tempo per rifletterci su Forse ne discuterò con gli altri Ottima idea Tornerò presto Ok e quello l'ho fatto Ora andiamo da zia Caldera Quindi magari si chiama lei Ragia di Dax Cardea Come ti sentite? Oh specialista Bene Sto bene Dov'è Dax? Sta facendo delle commissioni Sì Volevo del tè Lavanda credo L'abbiamo finito Il tè alla lavanda è il mio preferito Sì Me l'hai già detto Non mi pare È la prima volta? Non abbiamo mai parlato di tè prima d'ora È successo di nuovo Scusa Non c'è bisogno di scusarsi Sono solo preoccupato per la vostra salute Anche Dax Mi ha portata da un arcanista Beh Tecnicamente erano tre Avete conosciuto i Matthias? Sì Sono persone interessanti Ho spiegato loro cosa mi è accaduto durante la prigionia Che avete vissuto passato, presente e futuro Credevo che quei ricordi stessero svanendo Io non ne sono sicura Sono confusa Ricordo cose che non dovrei sapere Certi giorni i miei ricordi sono coerenti con quelli di Dax Certi altri no I Matthias ritengono che sia rimasta intrappolata in una realtà temporale Quelli che ho visto erano passati in futuro Impossibili ma non necessariamente reali Il mare è stato Ma tutto Vedete che sono nuovi I miei ricordi non sono chiari E potrebbero essere sbagliati Io non vado Che? Perlomeno torno da I vostri ricordi sono esatti In questo caso Vorresti davvero Vuol dire che sei andato a largo o no? No a largo non ci ho andato comunque C'è paura che hai venuto ma a largo fa Tu-rum 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 No 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 Mi metti proprio d'errore l'acqua alta Ah c'è che ti metti d'errore che non puoi vedere sotto cosa c'è Eh Anche a me così D'accordo Non mi aspettavo una svolta così tragica Anche a me infatti Se devo andare da qualche parte che è alta l'acqua perché sono in piscina Perché posso vedere con gli occhiadini posso vedere molto in fondo Non essere vero Saperlo non ti disturba Ogni volta che indosso lo strade c'è la possibilità che accada il peggio Se mi concentrassi sulle cose negative non riuscirei mai a fare il mio lavoro Vorrei tanto avere la tua sicurezza Per prima cosa bisogna risolvere il problema dei ricordi Non potete vivere così Sì Posso Se tu sei sopravvissuto al Risoprendo con un pizzico di sabbia per dargli più sapore Ecco tipo una cosa che mi sto sul cazzo Che in piscina non c'è Il fatto del Come si chiama Il fatto della sabbia Quante volte mi è capitato Che devo andarmene via E c'è C'è la cazzo di sabbia sui piedi O devo mangiare C'è la cazzo di sabbia sui piedi E andare fino al mare per pulirmi le mani E' piscina non c'è Sto diventando prevedibile Sembra Allora la situazione è questa Rabban Moore Fa una scoperta brillante Ma non lo dice a nessuno Al contrario Nasconde i documenti che la riguardano Dietro a enigmi e vari livelli di sicurezza Non ne parla nemmeno nella sua opera più influente E' curioso non trovi? Per come la vedo io esiste un solo modo per risolvere questo rompicapo Nei documenti di Moore ci sono degli indizi Dobbiamo seguire la scia di briciole che ci ha lasciato Harry l'ha estratto informazioni su un altro luogo Era usato come stazione di posta per gli arcanisti Crediamo che un altro indizio sia nascosto lì Me ne occupo io Ok Ok Basta non do più parla con lui Ok Dopo questa cosa qua Sta posto gioco Anzi è una posto gioco qui Anche perché sono andato avanti troppe volte Che c'è qui invece? C'è quanto amato Qui non c'è niente C'è alu che non c'è Va bene Ho due missioni in più da fare Ah no la scoppo adesso Grazie.